Musica Qui alle nostre spalle è il luogo di un'assurda tragedia che si è verificata nelle campagne di Caltagirone in prossimità dell'avveveratorio di località Costa Baria. Tutto si è consumato all'interno di un casolare, una lite sfociata nel sangue. Questa è l'unica chiave di lettura sinora al baglio degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone che stanno ricostruendo le fasi relative alle ultime ore di vita di Sebastian Andriou, bracciante agricolo 43enne di nazionalità rumena, barbaramente ucciso con un colpo di ascia alla testa. La vittima è stata rinvenuta a cadavere all'interno di un vecchio casolare, peraltro interamente a soccuadro e in condizioni igieniche assai precarie. Qui sarebbe forse scoppiata una dite, forse per un diverbio o per un chiarimento fra il rumeno, vittima di questo brutale omicidio, e il suo assassino. L'omicida, che non ha ancora né un volto né un nome, ha inferto i colpi duramente, senza pietà. La morte del rumeno è avvenuta per le profonde ferite riportate alla scatola cranica. Sui fatti indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, diretti dal vice questore aggiunto, Marcello Ariosto, e la procura della Repubblica di Caltagirone. Per tutta la notte gli inquirenti hanno ascoltato più testimoni, per tentare di individuare qualche indizio che potesse fare piena luce sul caso. Già il caso di un magabro omicidio è ferato e brutale, per le modalità con cui l'assassino ha deciso di stroncare la vita del 43enne rumeno. I poliziotti della scientifica stanno invece esaminando le impronte rinvenute sull'ascia per fare luce su questo giallo. Il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Caltagirone, Daria Corda, ha disposto l'esame autoptico.